Si è rinnovato anche quest'anno a Teramo con una notrita partecipazione di fedeli l'antico rito della processione della desolata all'alba del Verdi Santo e con essa si è rinnovato anche la partecipazione convinta dei tanti fedeli, circa un migliaio, che hanno accompagnato il vescovo Lorenzo Leuzzi, i parroci cittadini, al seguito della Madonna che cerca il figlio Gesù condannato a morte, nella consueta rappresentazione del peregrinare per le sette chiese. Dalle quattro fino a poco prima delle sette il lungo corteo dei fedeli ha percorso il tragitto dalla cattedrale al ritorno, toccando i simboli di sette dolori di Maria Dolorata. Sono molto sorpreso, vedi tanta partecipazione, soprattutto tanti giovani e credo anche che ci sia in tutti questo desiderio di incontrare il Signore, a partire da un'esperienza popolare, tradizionale, però nel cuore c'è qualcosa di molto più importante. Non è soltanto un rivivere una tradizione, ma partire da questa esperienza che la Chiesa propone per poter fare il salto di qualità, cioè tirar fuori dal nostro cuore il desiderio più profondo, che è quello di poter sperimentare l'amore del Signore che sulla croce ci dà la più grande testimonianza, ma che non finisce qui. Io penso che anche questa notte, pellegrinando nelle vie della città, tutti abbiamo in qualche modo sperimentato già la gioia della risurrezione. Di fronte alla morte sulla croce, di fronte alla sofferenza di Cristo che dona a se stesso per noi, penso che tutti abbiamo già gustato la gioia di sapere che Lui non poteva restare nel seppolcro. E quello che vivremo domani e soprattutto domenica sarà la pienezza di quel desiderio che portiamo nel cuore e che soltanto la risurrezione di Cristo può davvero appagare. Io auguro a tutti coloro che vivono qui nelle nostre diocesi, ma anche a tanti che verranno a trovare amici, ma anche a vivere l'esperienza della Pasqua qui nelle nostre diocesi, l'augurio che l'esperienza della risurrezione sia davvero una ripartita. Cristo è risorto perché sia su noi che possa ripartire di nuovo e questo credo che sia il grande annuncio perché è un momento anche di difficoltà, di delusione, di tristezza, anche di incomprensioni. Credo che sapere che Cristo è risorto dà a tutti la gioia di poter ripartire di nuovo.